Abbiamo una settimana importante perché abbiamo tre partite, Napoli, Sivile e Bologna, quindi è una settimana molto importante, come ci saranno altre dopo la sosta. Vanno affrontate con entusiasmo, con serenità, con più cattiveria, soprattutto in certi momenti della partita. Il Napoli è un'ottima squadra, innanzitutto perché credo che sia a livello offensivo una delle migliori e una delle più attrezzate, perché ha giocatori tra Caillon, Ansic, Higuain, Martens, Gabbiadini, Insigne, sono giocatori di grande valore, offensivo. E' ritornato Reina che è un grande portiere, credo che Sarri stia lavorando molto bene perché nonostante le critiche abbia fatto dei risultati in Europa League, in campionato è un pochino in ritardo come noi, però direi che la squadra dà segni di crescita. Per noi sarà una parte molto difficile perché è sempre Napoli-Juventus e quindi sarà un altro scontro diretto, come abbiamo fatto con la Roma, come ci sarà con l'Inter alla ripresa del campionato.